Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questa nuova trasmissione di Radio Buon Consiglio che come abbiamo sentito dalla sigla si intitola De Maria Nunquam Satis. De Maria Nunquam Satis è una frase che si trova nel Trattalo della vera devozione ma anche se è di più antica origine di San Luigi Maria Grignone da Monfort, scritta tra l'altro a caratteri cubitali, quindi che dal manoscritto emerge in maniera imperiosa e che significa etimologicamente su Maria mai abbastanza. Quindi non si parla e non si dice mai abbastanza della Divina Maria perché semplicemente non si può dire perché tutto ciò che possiamo dire e pensare di lei è sempre meno in confronto a ciò che ella è. Questo sappiamo che per antonomasia si predica e si dice di Dio stesso. Ecco, San Tommaso d'Aguino diceva, ed è bene ricordarlo, per quanto possiamo conoscere di Dio in questo mondo e insomma San Tommaso era uno che ne conosceva abbastanza, dobbiamo ricordare che di tutto quello che possiamo dire o pensare o conoscere di Dio in questo mondo, questo è niente in confronto a ciò che egli è. Evidentemente la Madonna non è Dio e non è una Dea, però è piena di grazia, come vedremo anche in questi incontri che andranno avanti fino a quando Dio vorrà, insomma che faremo in questa rubrica. Si potrebbe fare questa trasmissione da adesso, fino al termine della mia vita terrena, quindi non so quando sarà e poi essere proseguita senza aver detto quasi nulla della Madonna. San Massimiliano Maria Colbe negli anni 30 del secolo scorso diceva tranquillissimamente che dopo 2000 anni di Maria non si conosce quasi nulla, perché poi questa creatura per quanto sia eccelsa e per quanto adesso Dio vuole che sia conosciuta, però lei ama stare il più possibile nascosta anche se in obbedienza a Dio accetta di far conoscere qualcosa di sé e quindi diventa anche un pochino complicato, però basti per esempio pensare che San Luigi dice e io ci credo fermissimamente che è più facile contare le gocce degli oceani e i granelli di sabbia del mare piuttosto che le grazie, i meriti e le virtù della Madonna, quindi capite che nessuno è in grado di fare questo conteggio, quindi non si può. È chiaro che la conoscenza di Maria Santissima più aumenta e meglio è, perché come vedremo tante perfezioni e tante bellezze che si trovano in Maria Santissima non sono solo gloria e onore e maggiore venerazione per lei, devozione, tutte quante cose positive, ma hanno anche dei riflessi importantissimi, sia per quanto riguarda la retta conoscenza di Gesù, sia per quanto concerne la retta comprensione della Chiesa, sia per quanto concerne la retta comprensione di noi stessi, sia per quanto ottiene la retta comprensione della vita morale e ancora di più della spiritualità, dell'ascetica, della santità e della mistica. Quindi non per nulla qualcuno, qualche grande autore ha detto che la figura della Madonna è proprio il punto nevralgico perché la sua retta comprensione, così come la sua eventuale travisazione, influisce negativamente su tantissime cose, quindi ci accingiamo a questo nuovo ciclo di catechesi con queste disposizioni interiori, quindi andiamo ad esplorare un mare potenzialmente infinito, lo faremo, adesso i primi incontri che mi sono stati affidati dai responsabili della radio riguardano i dogmi mariani, che tra l'altro è un aspetto su cui personalmente ho anche proprio da un punto di vista dogmatico approfondito a suo tempo i miei studi, quindi spero di essere abbastanza chiaro. E poi se andrà avanti come Dio vorrà certamente i dogmi mariani, che sono quattro, sono in ordine cronologico e noi li affronteremo in ordine cronologico, la verginità perpetua di Maria, il primo, poi la maternità divina di Maria, poi l'immacolata concezione e poi l'assunzione, sono la base fondamentale per poter comprendere bene, anzitutto, dinanzi a chi ci troviamo dinanzi, ecco, di fronte, ecco, perché è questo alla luce, insomma, della fede divina e cattolica della Chiesa, perché questi sono dogmi, non sono verità de fide tenenda o nemmeno verità de fide credenda, sono dogmi, cioè dogmi di fede divina e cattolica o vuol dire che chi non li dovesse accettare, comunque anche se sono dogmi, devono essere accolti e creduti, cioè non esiste una sorta di, come dire, imposizione assoluta, perché Dio non violenta la nostra libertà, però se uno non condivide, non accetta, non fa proprio il contenuto di questi dogmi, è fuori della comunione con la Chiesa Cattolica, quindi non può dirsi, in comunione con la Chiesa Cattolica sta in stato di eresia, quindi formale tra l'altro, e evidentemente quindi non può accostarsi i sacramenti fino a quando non, perché insomma è una cosa, è una cosa grossa, insomma, non è una cosa da nulla. Io direi, dopo questa breve parentesi introduttoria, che possiamo immediatamente portarci all'interno del tema che mi è stato affidato per questi primi incontri, no, la verginità perpetua. Per quanto riguarda la verginità perpetua di Maria Santissima, come vedremo, a differenza che per gli altri tre dogmi, non esiste, cioè se uno dice, quale concilio, quale Papa ha stabilito definitivamente la verginità perpetua della Madonna? Ecco, la verginità perpetua della Madonna non ha, come dire, un momento o una dichiarazione puntuale e precisa, ma si è andata formando nel corso della storia, quindi sulla base delle testimonianze e della corretta interpretazione di alcuni dati biblici e sulla base, soprattutto, del pensiero di alcuni colossi tra i padri della Chiesa. Ecco, ora, il problema di questo dogma, non vorrei troppo indugiare su questo, però dobbiamo dirlo, è che purtroppo anche parte della teologia contemporanea ha messo in discussione la vera verginità di Maria, cioè una verginità anche biologicamente vera. Noi vedremo, trattando di questo dogma, che la verginità reale, fisica di Maria non è semplicemente fine a se stessa, va molto oltre, e lo vedremo. Vedremo il molto oltre in cui va, sia da un punto di vista oggettivo, cioè è certo, sia da un punto di vista eventualmente opinabile, d'accordo? E lo specificherò quando l'andare oltre coinvolge un piano opinabile, d'accordo? Ecco. Tuttavia, quindi il fortissimo valore simbolico della verginità di Maria, che è immenso, poggia su un dato reale, cioè che è successo nel secolo scorso, faccio questa piccolissima parentesi, insieme al molto positivo aspetto del cercare di comprendere meglio il significato anche simbolico, quindi che vada oltre di certi fatti o eventi riperati, ha portato alcuni a dire, va bene, siccome questo è il significato, poi che sia successo o che non sia successo non fa niente. E no, figlioni miei cari, e no, perché la nostra santa fede divina e cattolica è fondata sulla storia, sul verbo fatto carne, quindi non su favole, dice all'inizio il Vangelo di Luca e anche la lettera di San Pietro. Noi non siamo mica andati dietro alle favole o a cose inventate o a leggende o a miti, d'accordo? Perché tutto quello che noi crediamo è fondato sui fatti reali, cioè l'incarnazione di Gesù, non è, dice vabbè, ma Gesù si è incarnato significa che Dio è venuto in qualche modo a stare in mezzo agli uomini, poi che Gesù fosse veramente vero Dio, chi se ne importa? Perché scherziamo? Ci sono stati, purtroppo sono partiti prima in ambito protestante, questo chi ha studiato un po' lo sa, delle letture anche della risurrezione di Gesù nel secolo scorso, ma Gesù non è veramente risorto, cioè quella è la fede della Chiesa, quindi Gesù è risorto nella fede dei credenti, perché come scrive San Paolo, noi sappiamo che Cristo è risorto dai morti perché siamo passati dalla morte alla vita perché chiamiamo i fratelli, d'accordo? Come stivano San Paolo e San Giovanni. Ecco, calma, calma, oh! Cioè, tutti gli eventi salvifici, spero di non parlare troppo di difficile, sono fondati sulla storia, sulla realtà. Per esempio, chi è stato adesso ammessa ieri, adesso questa è una circostanza contingente, spero che sono certo che tutti i vostri paroci hanno fatto delle buone omelie, cioè l'episodio dell'Emonroissa e la risurrezione della figlia di Gairo, confrontati poi con la prima lettura dove il Libro della Sapienza fa una catechesi sull'origine della morte, è evidente che sono anche brani dal significato simbolico, d'accordo? Chi vuole, ancora non sono online, ma potrà poi insomma andare a vedere l'omelia che ho fatto io durante la messa delle dieci e mezza su questo aspetto, no? Però non è che quelli sono fatti inventati, d'accordo? Perché Gesù doveva trasmettere il messaggio come dire, sulla simbologia della donna che perde sangue e sulla simbologia della bambina risorta, d'accordo? Tutte e due, una da 12 anni malata, l'altra da 12 anni di età, eccetera, eccetera, no? No, sono dei fatti storici, cioè Gesù veramente ha sanato l'Emonroissa nel modo in cui l'Evangelista lo descrive, cioè quella gli ha toccato il mantello credendo di poter essere guarita, Gesù è fermato, dice ma da dove viene questa forza? Poi la vede dice brava, l'Otofede ti ha salvato, è veramente risuscitato quella bambina. È chiaro che questi episodi trascendono la loro portata materiale per andare oltre, ma quella andare oltre dipende dalla loro consistenza materiale, quindi certo che la verginità della Madonna non è un mero fatto biologico, d'accordo? Cioè immaginiamo oggi per esempio una povera donna che ci fa tanta compassione, no? Che è una vergine forzata, cioè una vergine perché non se l'è presa nessuno, perdonatemi insomma che quindi avrebbe tanto voluto, ma non ha avuto possibilità e non si è sposata, quella è una vergine che è evidente, quella è una vergine che a meno che poi la persona non la interiorizzi e quindi non la trasformi in una scelta cosciente e volontaria di offrire a Dio, cioè il fatto materiale dell'essere rimasto vergine in questo modo non ha un grande valore agli occhi di Dio, diverso, una ragazzina che da giovane rinuncia a tutto quanto e offre la vita al Signore nella verginità consacrata, è molto molto differente, d'accordo? Quindi però ecco il fatto materiale, il fatto fisico, il fatto biologico è costitutivo ed è da lì che trae poi origine tutto il resto. Ecco, quindi sentirete dire insomma che purtroppo prima che questa cosa qui della lettura mitologica della verginità di Maria è nata in ambiente protestante e poi purtroppo come sempre, come esperto, come sempre, come qualche volta è accaduto per dei mal compresi, insomma, sorte di complessi di inferiorità e ci hanno detto pure qualche teologo cattolico, insomma, questa cosa qui, no? Quindi va bene. Detto questo possiamo passare alla rassegna delle fonti anzitutto scritturistiche. Anzitutto nei Vangeli dell'infanzia Maria è sempre i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, cioè abbiamo i primi capitoli dei Vangeli di San Luca e di San Matteo. Sapete che sono gli unici due Vangeli che parlano dell'infanzia di Gesù, senza i quali non avremmo potuti fare il presepe, no? Allora, in questi Vangeli dell'infanzia della Madonna è chiamata o promessa sposa, cioè fidanzata di Giuseppe e questo abbiamo per esempio l'annunciazione che è Luca 1,27. Ha una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide. Il termine greco è chiaramente quello che significa fidanzata. Ma anche più avanti, quindi nel secondo capitolo di San Luca, per esempio, e precisamente nel versetto 5, quando vanno dopo l'editto a farsi registrare a Betlemme, si legge che andarono a Betlemme per farsi registrare Santo San Giuseppe con Maria, sua sposa. Attenzione al termine, sua sposa, sposa è il termine, che era incinta. Attenzione, sua sposa che era incinta. Nei passi paralleli di San Matteo, la Madonna viene di nuovo, sempre e solo, chiamata sposa. Matteo 1,16, la genealogia. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria. Attenzione anche San Giuseppe, sposo di Maria. Dopo capiremo. Ancora, ecco come viene la nascita di Gesù Cristo, versetto 18, sempre capitolo 1, sua madre Maria, essendo promessa sposa, di nuovo, quindi fidanzata, e prima che andassero a vivere insieme, specifica ancora, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Qui c'è proprio una testimonianza esplicita, d'accordo, biblica. Ancora, versetto 24. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Allora, sposa e sposo, non marito e moglie. Quando è anche nel nostro sacramento del matrimonio che una coppia si chiamano sposo e sposa anziché marito e moglie, quando si chiamano marito e moglie anziché sposo e sposa, allora voi sapete che quando entrano in chiesa la coppia sono ancora fidanzati. Celebrata la messa che si chiama la messa degli sposi, o la messa del marito e della moglie, d'accordo? Si chiama la messa degli sposi. Perché? Perché appena contraggono il consenso, consensus facit matrimonium, diventano sposo e sposa. Ma quando è che diventano marito e moglie? Usando i termini propri del diritto canonico è quando il matrimonio viene consumato, cioè quando dopo la celebrazione sacramentale avviene l'unione sponsale, coniugale. Quell'atto idoneo a trasmettere la vita è che realizza sul piano fisico il segno dell'essere due in una sola carne. Da quel momento in poi sono marito e moglie. Sappiamo anche dal punto di vista canonico, attenzione, perché l'indissolubilità del sacramento del matrimonio, e questo fa comprendere bene e la fa comprendere lunga, si perfeziona solo dopo che i coniugi sono stati insieme intrattenendosi negli atti coniugati. Prima che questo accada, chi non ci crede apre il codice di diritto canonico della Chiesa, il matrimonio c'è, è perfettamente valido, ma il Papa lo può sciogliere. Attenzione, sciogliere, non dichiarare nullo, d'accordo? Quindi diventa totalmente indissolubile solo in quel momento, capite quanto? E questo fa anche comprendere, attenzione, come nella mente di Dio l'indissolubilità sia in realtà radicata, però questo discorso non lo faremo, nella legge naturale, non nel sacramento del matrimonio, perché si perfeziona col segno dell'essere una carne sola. Comunque, adesso occupiamoci di altro. Quindi, mai la Madonna è chiamata moglie di San Giuseppe, mai San Giuseppe è chiamato marito di Maria. Questo è il primo punto. E quindi chiaramente da qui è partita la riflessione ecclesiale. no? Poi, la genealogia di San Matteo, San Matteo dice, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Risale fino ad Abramo, poi 15 versetti di nomi su nomi, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, eccetera, eccetera. Arrivato al versetto 16, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Allora, per la mentalità dell'epoca, capite, mo si arrabbierebbero sicuramente le femministe, cioè dire una cosa di questo genere, dire uno sfrondone, perché la cosa importante nella nascita di un figlio non è la madre, ma è il padre, d'accordo? Come si vede in tutta la genealogia, in tutti i nomi precedenti, sono tutti i nomi maschili, d'accordo? Non sono nomi femminili. L'unica volta che l'Evangelista si cura di specificare Giacobbe generò Giuseppe, ma Giuseppe è lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Quindi come mai compare questa variante? perché Giuseppe non è il padre naturale di Gesù, perché Gesù non è stato concepito in modo naturale. Nell'annunciazione, peraltro, e qui spezziamo una lancia perché la nuova traduzione della CEI, sapete che ogni traduzione purtroppo è sempre un'interpretazione, per cui io, a mio modesto avviso, non è stata, per esempio, la traduzione della CEI del 74, che ha fatto seguito a quella, se non ricordo male, del 65, poi c'è quella di qualche anno fa, mi pare che era il 2008. Allora, che succede con queste benedette traduzioni? Che chi conosce il greco ed ebraico sa bene che alcune espressioni è difficile renderle in una lingua differente. Per esempio, la risposta di Maria Santissima, nella versione del 74, per esempio, era pessima. A me, per certi aspetti, piaceva tanto, per tante cose, la versione del 74. Quella del 2008, per certi particolari, mi piace un po' meno, certamente, questa è un'opinione soggettiva personale, ma nessuno discute le traduzioni della CEI, si dice tanto più per dire, no? Però, per quanto riguarda l'annunziazione, l'annunziazione è molto migliore la traduzione attuale, perché mentre nella vecchia traduzione, proprio ce l'ho davanti agli occhi, dopo che viene in carriera l'annuncio, si legge in Luca 1,34. Allora Maria disse all'angelo, come è possibile? Non conosco uomo. La risposta sembra apparentemente, io infatti mi chiedevo quando erano gli inizi della mia conversione, perché poi, poco prima, Zaccaria aveva detto all'angelo, come posso conoscere questo? Io sono vecchio, mia moglie è avanzata negli anni. Sembra identica la risposta, cioè Zaccaria dice all'angelo, ma che dici? Come faccio a pensare a cose del genere che io sono vecchio, cioè mia moglie è sterile? E sembrerebbe che la Madonna dica, ma com'è possibile? Non conosco uomo. Quindi, uno diventa muto e lei gli viene detto, cioè prosegue il discorso e poi dice il fiat, com'è? Perché la traduzione corretta non è questa. Una traduzione messa in questo modo addirittura può far pensare a fuorviante, perché in verbo, adesso non voglio fare insomma, cioè la traduzione letterale dal greco, che è quella nuova, è non come è possibile, ma è come avverrà questo, anzi letteralmente sarebbe come sarà questo, cioè il futuro del verbo essere, cioè la Madonna non dubita che sia possibile, ma chiede come sarà questo, quindi questo è un fatto che sarà, perché se lo dice Dio sarà. La Madonna sta chiedendo solo spiegazioni, dal momento che non conosco uomo, quindi come sarà questo, virgola, dal momento che non conosco uomo, quel conosco in greco si può tradurre conoscere, ma tiene con sé sottointeso, allora io l'uomo non lo conosco e non lo voglio conoscere, cioè la Madonna sta dicendo, allora, perché questo si realizzi? Io devo perdere la verginità o no, o ci sarà qualche altro modo, questo è quello che sta soltanto chiedendo una delucidazione sul modo con cui quest'annuncio si deve compiere. Io ho sempre detto che se fosse stato detto altro dall'angelo, la Madonna sarebbe stata prontissima anche a rinunciare alla verginità, se per assurdo questa fosse stata volontà di Dio, ma direttamente non lo è stata. E infatti subito dopo l'angelo cosa dice? Non ti preoccupare, scenderà lo Spirito Santo su di te e concepirai in modo divino. Ecco già il tema della verginità prima del parto. Cominciamo a familiarizzarsi un po', sicuramente non finiremo oggi questo argomento. Quindi non lo conosco, non lo voglio conoscere. Ancora poi San Matteo, come abbiamo letto, dice chiaramente che prima che andassero a vivere insieme, Maria si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, quindi è un fatto che ha preceduto la convivenza. E attenzione che ai tempi di Giuseppe e di Maria non era così frequente, perdonatemi, insomma, l'avere rapporti prematrimoniali. Anzi, se una donna veniva trovata che non era come sarebbe stata la fine del mondo, sarebbe stata. Quindi prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, dice testualmente, riprendendo con altre parole quello che dice San Luca. E sempre nel Vangelo di San Matteo, nei versetti dal 20 al 23, cita, la leggiamo insieme, l'adempimento in Maria della profezia circa la Vergine del profeta Esaia, capitolo 7, versetto 14. Dice, mentre però stava pensando queste cose, al versetto 22, tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele che significa Dio con noi. Quindi la Vergine profetizzata da Esaia, questo San Matteo è uno stile del suo Vangelo, quindi mostra le cosiddette citazioni di adempimento, quindi fa vedere come molte profezie dell'Antico Testamento sono state compiute in Gesù o da ciò che Gesù ha fatto nel corso della storia. Quindi qual è la sintesi dei capitoli 1 e 2 dei Vangeli di San Luca e di San Matteo che sono i Vangeli dell'infanzia? Cioè che la paternità naturale di Gesù non è attribuibile a Giuseppe ma allo Spirito Santo. Quindi Gesù ha una madre terrena naturale ma non un padre naturale. Il suo concepimento è miracoloso. Questo discorso fa emergere immediatamente il primo dogma mariano certamente biblicamente enunciato. Cioè la verginità prima del parto è assolutamente in dubbio. È biblicamente come dire dichiarata attraverso quello che abbiamo appena letto. Ed è la prima quindi che è stata immediatamente presente nell'autocoscienza della Chiesa. Che succede? Che soprattutto per l'opera dei padri latini avviene a partire dal IV secolo una ulteriore esplicitazione della verginità di Maria giungendo alla famosa triplice formula vergine prima, vergine durante e vergine dopo il parto. Tutto nacque per quanto riguarda la vergine durante il parto da un padre latino che è stato per certi aspetti un grande padre della Chiesa. Non è santo perché purtroppo al termine della vita è stato, diciamo così, purtroppo seduto da un gruppo di scalmanati eretici che erano i montanisti. Si tratta di Tertulliano. Tertulliano aveva scritto la città di Gesù come dolorosa e cruenta. Tra l'altro, non voglio fare nomi, però facciamo sempre attenzione a quello che vediamo, soprattutto alla naturalizzazione e razionalizzazione degli elementi di fede, in qualche film su Gesù si vede la Madonna che sta partorendo tra le doglie e le urla come qualunque altra donna normale e comune. E qualcuno appoggerebbe questa cosa, ecco, bisogna fare molta attenzione a come ci si accosta alla Sacra Scrittura, su quanto si regge nel capitolo 12 dell'Apocalisse. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sulla testa una corona di 12 stelle, era incinta e gridava per le doglie e travagli del parto. Ah, eccolo, ecco, Tertulliano, gridava per le doglie e travagli del parto. Sì, va bene, la concezione viene dall'alto, però il parto è stato un parto doloroso. È solo che c'è un piccolo problema qui. Ci sono una serie di obiezioni non indifferenti che altri padri, poi evidentemente provocati da questa uscita di Tertulliano, hanno fatto proprie e la Chiesa stessa nel concilio Vaticano II, nel capitolo 57 della Lumen Gentium, ha fatto poi sue. Non solo qui, ma era un dato tradizionale assolutamente accertato. Gesù, nascendo, non ha diminuito ma ha consacrato l'integrità della Madonna. Allora, ci sono delle obiezioni. Numero uno, le doglie e i dolori del parto dalla Sacra Scrittura sono collegate come conseguenza, una delle conseguenze immediate e dirette del peccato originale. Con dolori partorirai figli, viene detto da Dio ad Ema. Quindi il dolore per il parto dei figli è conseguenza della colpa d'origine. La Madonna la colpa d'origine non l'aveva. Poi c'è anche un altro grosso problema legato a tutta quanto una serie di prescrizioni rituali e cultuali dell'Antico Testamento. Questo è un episodio che per esempio si vede è la purificazione di Maria. Il discorso era questo. Se uno apre il libro del Levitico dei numeri e del Deuteronomio, adesso chiaramente queste sono catechesi un pochino divulgative, poi i responsabili della radio mi correggeranno se vogliono che vada molto più in fondo, insomma, quindi non sto a leggere adesso tutti quanti i passi e i brani o a approfondire troppo, ma nell'Antico Testamento il sangue rende impuro chi lo versa. Sempre. Sempre. E in modo particolare la donna, che la donna era considerata impura in due circostanze. Dopo che aveva perso il sangue forzato mensile, che tutte le donne perdono fino a quando sono in età feconda, o dopo il parto, per tutto quanto il sangue che era stato perso durante appunto le toglie e il travaglio del parto. Non poteva essere toccata prima di sottoporsi ad una purificazione cultuale e legale. E la Madonna, attenzione questa cosa, pur non avendo bisogno, la fece dopo 40 giorni, contestualmente con la presentazione al Tempio del Primo Genito, perché dovevano passare 40 giorni senza che nessuno poteva toccarla, la donna doveva sottoporsi al bagno purificatorio, perché aveva contratto l'impurità di aver versato il sangue. D'accordo? Ecco. Quindi, queste obiezioni hanno immediatamente prodotto una reazione nel mondo della patristica. C'era un altro argomento ancora, perché la verginità durante il parto, diciamo così, deve essere difesa e deve essere tenuta, ripeto che sono un dogma di fede, quindi non ci sono, perché coinvolge due cose fondamentali. Primo, il peccato originale, cioè se la Madonna avesse sofferto partorendo, non si potrebbe dire in verità che il partorire con dolori è una conseguenza del peccato originale. Punto. Questo, quindi, credete che comporta, come dire, la messa in crisi, se così non fosse di una verità di fede. Poi c'era un'altra, perché la nascita virginale serve anche, come dire, non è che serve anche, dimostra anche la vera divinità di Cristo, che è tra l'altro attestata anche nell'Annunciazione. Cioè, il fatto di essere concepito per opera dello Spirito Santo è la prima manifestazione della divinità di Gesù Cristo. vero, perché nessuno, nell'attuale economia, cioè per come da sempre sono nati gli esseri umani, nell'attuale economia, nessuno potrebbe concepirsi per opera dello Spirito Santo se non fosse Dio. Ma, quando Gesù è risorto, cosa è successo? Cosa si dicono nei Vangeli? Che è apparso, la sera di Pasqua, agli Apostoli come a porte chiuse. Cioè, Dio, se utilizza le sue proprietà divine, può passare i muri senza che questo comporti un sfaldamento del proprio corpo, oppure l'acerazione dei muri. E alcuni padri scrivevano, bene, come Gesù, risorto, è passato attraverso i muri, così è uscito dal grembo virginale di Maria Santissima, attraversandolo senza lacerare la sua integrità fisica. Quindi, l'integrità fisica durante il parto di Maria Santissima tutela la verità di fede, dei dolori del parto, come conseguenza del peccato originale. E, di nuovo, la vera divinità di Cristo. Perché non è altro che una sorta di anticipazione di quello che Gesù avrebbe realizzato nella risurrezione. Quindi c'è questo collegamento tra la nascita e la risurrezione. Voi sapete che, così come appena nato, posto nella mangiatoia, quindi in una situazione di sofferenza, è non molto dissimile dal porlo nel sepolcro, no? Tanto è vero che l'iconografia orientale, che su questi punti è molto bella, se voi vedete i quadri dove è scritto insieme la nascita, ci sono dei trittici, la nascita, la morte in croce e la risurrezione di Gesù, si vede che la greppia, quindi la mangiatoia, ha la stessa forma della tomba. Vedete? Quindi, questo legame. E la triplice verginità della Madonna, adesso credo che introdurremo quella dopo il parto, perché quella dopo il parto è un po' più complicata, e siccome non abbiamo ancora tantissimo tempo, non vorrei trattarla frettolosamente perché è la più delicata, sia per quanto riguarda le apparenti contraddizioni alla verginità postpartum, sia anche per quanto riguarda le importantissime conseguenze di questo particolare ulteriore aspetto della verginità. E anche qui, sia conseguenze reali e, unitamente a queste del durante il parto, conseguenze possibili, d'accordo, che per ragione, diciamo così, di completezza e di correttezza, perché credo che le ipotesi teologiche, purché siano presentate come tale, si possano sempre fare, specificando che sono tali, un accenno glielo vorrei dare. Quindi per quanto riguarda l'iconografia orientale, se voi vedete molte immagini bizantine o post-bizzantine, comunque orientali, con cui viene rappresentata e raffigurata Maria Santissima, la vedrete sempre con tre stelline, una sta sulla spalla destra, una sta sul velo all'altezza della fronte, e l'altra sta sulla spalla sinistra. Cosa significano queste tre stelle? La triplice verginità di Maria. Prima stella, verginità prima del parto. Seconda stella, verginità durante il parto. Terza stella, verginità dopo il parto. Ora, per quello che concerne, abbiamo ancora qualche minuto, introduciamo un attimo questo tema del dopo il parto. Voi sapete che, se incontraste i testimoni di Geova, vi direbbe immediatamente che la Chiesa si è inventata la favola della verginità perpetua di Maria, quando invece i Vangeli dicono tutto il contrario. Perché ci sono dei passi, tanti, che parlano dei cosiddetti fratelli e sorelle di Gesù. Trovate il testimone di Geova, vi mette davanti questi brani, e chiaramente uno legge, attenzione, anche nella forma originale, perché se anche uno conoscesse il greco, troverà scritto il termine fratello e non il termine parente o cugino o cugina. Quindi veramente bene. Qui non è che stiamo facendo un problema di traduzione, perché la traduzione qui è giusta. Allora che succede? Ecco, succede sempre, io vorrei anzitutto dare, prima di introdurre questo discorso, un criterio generale. Ecco, voi sapete che la Chiesa oggi, da dopo la Dei Verbum, auspica fortemente e desidera che anche i fedeli si accostino alla Sagra Scrittura, in particolare Vangeli, ma diciamo in generale la Sagra Scrittura, come fonte primaria di alimento della propria vita spirituale. Voi sapete, ci fu tutta una polemica antiprotestante, perché Lutero aveva introdotto non soltanto la Bibbia in lingua volgare, che non sarebbe stata nemmeno la cosa più grave, ma il libero esame, quindi che ognuno si interpreta la Bibbia come gli pare. E questo aveva comportato una montagna di disastri. Ecco, come succede sempre quando si sta un disastro, bisogna cercare di fare qualcosa per arginare il disastro. E allora la Chiesa ha detto, sentiamo, lasciamo la Bibbia e gli addetti ai lavori, perché nella Bibbia c'è scritto di tutto il contrario, di tutto, e questo è vero. Io quando mi chiedono, quando faccio gli incontri, insomma, dicono, ci dai, come fare un incontro dove ci dai qualche dritta, insomma, su come ci si accosta alla Sacra Scrittura, l'ho fatta anche recentemente qui con i giovani della parrocchia, gliele do, però gli faccio anche vedere di cosa sta attento, perché nella Bibbia dove l'avevi scritto, cosa dico io durante la Messa? Signore Gesù Cristo che ha detto agli ai tuoi postoli vi lascio la pace e vi do la mia pace, giusto? Questa citazione è presa dal Vangelo di San Giovanni. vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la del mondo io la do a voi, non si è turbati il vostro cuore o non abbia timore, questo è un pezzo del discorso di addio di Gesù. Poi apri i nottici e trovi scritto, non crediate che io sono venuto a portare la pace sulla terra, non sono venuto a portare la pace ma una spada. Questo è solo un esempio, o no? Allora, insomma, sto benedetto Gesù ha portato la pace o porta la guerra? Là ci ha detto che non solo che ci dà la pace, ci dà una pace sovrumana, non quella che dà il mondo ma quella che do io e qua invece sta a dire che non porta la pace ma porta la spada, porta la guerra, sono venuto a dividere il padre dalla madre, il padre dal figlio e la madre dalla figlia, il fratello, cioè i nemici dell'uomo saranno i membri dello stesso, insomma, ma che fai Gesù? Porti la guerra e porti la pace. Di questo ce ne sono una montagna di cose nella Bibbia per cui occorre accostarsi a questi sacri testi con dei criteri. Uno dei criteri che è assolutamente preponderante per la corretta interpretazione dei passi che vedremo la prossima volta nel dettaglio, tanto più o meno tutti quanti li sanno che esistono, è questo, cioè che un passo biblico, questo vale anche per altro, non va interpretato soltanto alla luce del suo contesto prossimo e immediato, ma alla luce di tutta la Bibbia. Questo è un criterio pratistico fondamentale, quindi prima di formulare conclusioni definitive vai a cercare passi paralleli in cui si usano gli stessi termini, gli stessi vocabili, eccetera, eccetera, e poi fai un confronto. Capite? Questo vale anche attenzione per i discorsi che facciamo noi, capite? Cioè, se io faccio un discorso, e questo lo fanno tutti quanti i giornali oggi, uno stacca una frase, d'accordo, da tutto quanto il contesto e dice titolo a slogan, io non pensavo quello, d'accordo? Non pensavo quello. E questo accade non soltanto quando uno, come dire, lancia un titolo slogan interpretando qualche frase clou che tu hai detto, no, no, a volte si prendono proprio il virgolettato, ti tolgo di bocca, con le virgolette, quindi questo l'ha detto Don Leonardo, estrapolato dal contesto, capite? Ultimamente ho fatto una meditazione dove dicevo, dice, ecco, secondo noi la Madonna intelligente perché se per assurdo dovesse abbracciare una posizione di questo genere se non mi ricordo, la Madonna sarebbe sciocca, anzi, la Madonna è sciocca? a questo punto dice, Don Leonardo dubita che la Madonna è intelligente e dice che la Madonna è sciocca, ma no, perché sto facendo un discorso generale e sto facendo capire che proprio perché la Madonna non è sciocca non penserebbe mai o non direbbe mai o non farebbe mai una cosa come quella di cui stavo parlando, però se tu togli quella frase, ecco, la strumentalizzi e dici, guarda che dice Don Leonardo, questo con la Sacra Scrittura è quanto di più micidiale possa accadere. Quindi, io ovviamente incoraggio con il Papa, il Papa Francesco ha detto se volete fare contento il Papa leggete il Vangelo e che non si leggano i Vangeli è un danno oggi per la Chiesa, però, attenzione a non andare a leggere i Vangeli pensando di essere origene, quindi l'esegeta o San Girolamo, quindi grandi esegeti che uno si legge il Vangelo e dice questo la Chiesa non la mai chiamano adesso prendo io il Vangelo e te dico io come stanno le cose, ragazzi, ecco, il Vangelo si legge come alimento spirituale che alimenta il nostro rapporto personale con Gesù, ma quando troviamo qualche cosa che ci scuote un po', fermi, qui sicuramente c'è un intoppo e non andiamo a approfondire troppo prima di esserci confrontati con il Catechismo, con un sacerdote dice, oh, ma sto patto qui a me mi sembra ma certamente non è così, me lo spieghi un attimo, ecco, perdonatemi se mi permetto, insomma, però questo valga diciamo così come il discorso introduttorio alla verginità dopo il parto che a Dio piacendo riprenderemo la settimana prossima. Appuntamento quindi per chi lo desidera alla prossima puntata, alla prossima settimana, Ave Maria. Grazie a tutti.